Correva l'anno 1000, fu superati dal 1999, che è quello più forte, e che santa Nicola, la verità devo dire perché, no? Lui è un santo che faceva tanti miracoli, no? Difatti, lui dentro alle messe, voglio dire alle processioni, porta tre palle in mano, queste tre palle che stanno a significare che lui è un grande santo miracolato, che poi i vecchi pellegrini oltre 60 anni lo pregano affettuosamente, le donne pure anche loro, scusso, anche loro, e di fatto la canzone che si chiama adesso viene San Nicola. Stuta Maronar, e cavol la mandagnol, s'andano con gli e tutta d'oro. Stuta Maronar, e cavol la mandagnol, s'andano con gli e tutta d'oro. Stuta Maronar, e cavol la mandagnol, s'andano con gli e tutta d'oro. Stuta Maronar, e cavol la mandagnol, s'andano con gli e tutta d'oro. Stuta Maronar, e cavol la mandagnol, s'andano con gli e tutta d'oro. Stuta Maronar, e cavol la mandagnol, s'andano con gli e tutta d'oro. Stuta Maronar, e cavol la mandagnol, s'andano con gli e tutta d'oro. Ci ricordiamo nel senso.